aspetta che passando da sotto neanche mi vede aspetta no non mi prendeva neanche ora si che è arrivato il momento avete delle lame? anch'io venite giù finchè ce l'ho vabbè da te arrivo adesso anzi se vieni tu questa combo l'adoro io sinceramente anche sto a prendersi pario a tutti a tutti i goblin non finisce mai questi livelli iniziano ad essere lunghetti vabbè no la via giusta scusate si è la via giusta ti nascondono anche la via giusta adesso pensate gadget e mi son perso qualcosa perché? mi sento un imbecille ah ok oh Cazzo di spavento Noi che troviamo anche altri Doc Non ci sei? Non hai fatto un cazzo? Assistente del dottore? Tutto qui? Tu è un bravo assistente Perché non c'è neanche il mio nome? Senza di me Doc non avrebbe mai... Avete sentito? Goblin Aspetta voglio prendermi il culo Nooo fatemi prendermi il culo Lucas sei la schiappa Allora siamo in un nuovo capitolo Sono altri due segreti colori Sono riuscito a confonderlo da cui Mi ha distrutto lo scudo in un attimo Me lo distruggono in un attimo Sono rotto i coglioni Ancora l'aereo dei Doc? Come cazzo? L'hanno ricreato Ah ma sono ancora invisibile troverendo Invisibile Sì Più o meno Oddio questi qui quanto li detestavo Eh? Ah sì Ok Grazie panca Mi hai salvato il culo E se in un colpo morite Questi sono tutti gli avversari che ho affrontato È un viaggio nel passato Che bello Che bello Aspetta Cos'è questo? Ah è l'uccello malefico PG8 Con la sua raffica Non te la posso respingere? Oh sì che posso Non ti sei fatto un cazzo Ma caro amico Porca puttana Orca puttana Sì Sei potente L'ommetto E vorrei smetterla di giocare Riuscito a colpirmi uguale Minchia il calcio Quanto li ha to Veder la vita Mi fa capire Quali danni faccio Utile Ah i robot Sono i robottoni Del cattivone Che sono Cazzo Mi sono scordato il nome Victor Victor Era Victor Sì Mi sembra di sì Ok Hanno ricreato addirittura Il posto dei reperti O Preverti tra le rovine Mi ricordano le mie ultime avventure Con Nank Doc impazzirebbe Per questa roba Lì mi sembra Che ci si possa passare Ma come Non penso Ci possa arrivare Ciao ti Ah Eh ma come Mi sfugge qualcosa A parte questo No io devo Effettivamente Passare lì Ma qual Come Dov'è il trampolino Di lancio Scusate Mmm Non è che devo inserirle Al contrario Magari No Che bastardi Ma non è così intuitivo Oddio Dopo un po' sì Però mi piace Il fatto Cioè Io se da bambino Avesse avuto questo gioco Ci sarei impazzito Come non so cosa Ho notato che i goblins Hanno una specie di illa Sì Tipo a quel rito Potrebbe essere la mente Dietro al loro comportamento Cioè lui a risvegliare le armi antiche Scusami Scusami Ma è inutile questo Allora Sì Oddio Aspettate Ok Non era proprio Mende inutile Ok Mi sono rifatto Un giretto dietro Ma non sembra Adesso c'è un branchetto Accidenti Pensavo di avercela fatta Poi Dove Puoi mirarmi giusto Mico Niente Ah Pensavo durasse di più Questi qui cosa sono? Cosa sono? Ah forse sono i mega reperti Sì Sono i mega reperti Non possiamo prenderli Con chi state combattendo? Ah Con Catrina Siamo attaccati insieme Però fate veramente paura Aio 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 Recupera i reperti Ora voglio fare questa Vai fammi provare questa schivata Non mi fa paura Non so cosa fare questa schivata Adesso E io scommetto di aver dimenticato qualcosa Ma comunque Che salto Tutto Sempre distruggere le casse Anche in Dark Souls In tutto Dove puoi distruggere le casse Tu distruggile Prima o poi serviii Mi sa che stanno cercando Quello Comunque Minchia L'ho preso da vicino E il pugno Funzionato Odir poco Si è aperta con la porta Però di là E sopra Scusate Arrivo eh Perché quello lì Mi sa che mi fa partire Un filmato Ah Non posso passare Scusate Scusate Dai fate E' uno dei titani Di cui ci ha parlato Ava O meglio E' la sua testa Wow Noi umani abbiamo sconfitto Questi cosi I goblin ne costruirono Una decina Meno male Ricordi la storia di Ava Quei titani Non possono essere affrontati Direttamente Quindi Mario si eliminò Il centro di controllo Con una squadra da salto Sì mi ricordo Eh E' il boss Mi sembra che L'ultimo boss Sia questo Comunque Sì ma ci stiamo Dimenticando comunque Quel Che c'era un altro pezzo Che sia il ritorno Mi sta venendo questo dubbio Provo ad andare un attimo Comunque Sì Non penso che ci sia Lo stesso giochino Dell'altra volta L'ho perso veramente Continuo a perderli oggi E' una roba incredibile Sì mi sa che Quello è il ritorno Comunque Cioè come è possibile Che oggi Sono così distratto Io dico oggi In realtà sono quattro Saranno quattro episodi diversi Però Gli ho registrati tutti insieme Giusto per farci capire Vabbè Mi sembrava ovvio Ah Dovevo sconfiggere Semplicemente loro No Perché sei richiusa Ah Devo aprirla dopo La porta è bloccata Dovrai essere più grande Per forzare Ah Spero che qui intorno Sia pieno di raperzi Dopotutto Questo è la musea Ce l'ho rispinta E nello stesso tempo Ho fatto un placcaggio Vieni qui Ci hai provato Ok Ora perché mi hai fatto Prendere altri reperti Boh Sì Ma Vediamo Che fatica Ho premuto un tasto Sono arrivati prima di noi Cazzo Volevo provarla schiacciata Fa male Fa male la schiacciata Sì Scusate Qual è la via giusta? Qui ti consiglia Di fare questa cosa Aha Ecco perché te lo consiglia Cosa mi fa imparare? Onda d'urto Ah Eh beh Era quella che Dicevo io Non l'avevo ancora imparata Ce l'avevo una alla beta Ah Contro chi? Scusa Scusa Ma non fa niente di danno Più o meno Giusto per farmela provare Grazie Se avessi un allungo più Più in là Vabbè Un allungo più lungo Stavo per dire Alti i goblin Siamo pronti Invii il segnale Non dimentichi qualcosa Mi perdoni Mandi il segnale Sua eminenza È partito E dire che il consiglio supremo Ha scelto lui Lo stanno riattivando E quello Sì L'ho preso Bellissimo Grazie Qualunque cosa sia Eliminatelo Buongiorno Piccolo cambio di programma Ragazzi Vieni giù Vieni giù Andate laggiù E andate a finire Quella è creatura Cazzo 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 Però il calcio in volo Ho fatto parecchio male Anche loro Stanno facendo parecchio male Venite qua Venite qua Uno Ho sentito ballare Che devi essere Nac Non sei Unico Delle razze Dei Se sei Dalla parte Degli umani Sei Il nostro Nemico Non riuscirai Mai Appena Marci Porca Troia Scappa Arcieri De merda Vieni qui Che Un buio normale No E' stato faticoso Lo devo ammettere Tu non combatti No Tu sei Troppo intelligente Vediamo Che cosa Abbiamo Qui Mi ricordo Qualcosa Ma non ne sono Sicuro Questo è L'artefatto Che i goblin Cercavano Doc Quando sei arrivato Mi ricordo Una No Niente Mai visto Niente di simile E' un altro Sospettavo Gli altri goblin Ne sono dentro Fino al collo In questi eventi Potevi dircelo prima Credo di averlo detto Immagino che ti stia divertendo Con Ava Ma questa cosa Va presa sul serio Io la sto prendendo sul serio Non sarà facile scovarli Dopo che Mario subvince la guerra Distrusse le loro città Ora su La tua metà Sapete una cosa La mappa che era nel laboratorio di Yurik Ha un segno in più Credi che sia il centro di controllo In teoria sì Ma ci sono stato laggiù E non c'è niente Neanche delle rovine Meglio dare un'occhiata Decisamente A proposito di Quell'avete fatto Lucas I goblin ne sapranno qualcosa di quell'oggetto Conoscendo i reperti Dottore Capisco il suo interesse Ma noi dobbiamo proteggerlo Il nostro villaggio è Scusa Xander Ma potrei scoprire Vabbè Dissezionato Non è neanche una rovia Sicuro Senti Lucas Questa cosa Va presa sul serio Hai sentito che mi ha detto Che crede che abbiamo fatto Tutto questo tempo Eravate distratti da me A quanto pare Perché non dai l'artefatto a Xander Ci penserò più tardi È come vi avevo detto Non c'è niente di niente Beh Siamo qui Diamo un'occhiata Se il centro di controllo è qui Lo troveremo Andiamo Grazie per aver seguito il video Se vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un mi piace E di condividere Inoltre se non siete ancora iscritti Vi ricordo di iscrivervi Qui sotto E Noi ci vediamo alla prossima Ciao